Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c'è aria di crisi? A quanto pare l'influencer Italo Persiana avrebbe dato un ultimatum all'ex velino di striscia la notizia Nonostante la vita professionale molto impegnata, i due ex concorrenti del GFV-5 stanno progettando insieme il futuro insieme, le nozze e magari anche un bambino? Ricordiamo che i due ragazzi in queste ultime settimane sono super impegnati Il 31enne Lucano si sta mettendo alla prova tale e quale show 2021, mentre la modella sta conducendo il GFV-5 parti insieme a Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso L'influencer gelosa delle donne vicino all'ex velino la distanza forzata, lei a Milano e lui a Roma, e gli impegni professionali stanno dando alla coppia del filo da torcere e pare anche che Giulia Salemi sia abbastanza gelosa di tutte le donne che girano al suo fidanzato durante questa sua esperienza televisiva tale e quale show Nonostante ciò l'amore che lega i due ex GFV-5 è più forte, quindi non c'è nessuna crisi in atto Qualcuno parla già per l'influencer Italo Persiana e l'ex velino di striscia la notizia di un possibile bambino Ma in ordine cronologico, stando alle dichiarazioni della ragazza, prima dovrebbe esserci il matrimonio anche perché lei su questa tematica ha già le idee molto chiare Matrimonio in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato lo scorso mese alle nozze di alcuni amici E quando ha giunto il fatidico momento del lancio del book, è accaduto l'incredibile, a prenderlo, in mezzo alle alte donne single presenti, è stata proprio l'ex concorrente del grande fratello V, I5 Le domeniche che mi fanno sognare un matrimonio davvero speciale dove sono riuscita a conquistare l'ambito book, ha scritto l'influencer su Instagram Rivolgendosi invece al compagno, ha detto, adesso non c'è più scampo Rivolgendosi in dispensi Rivolgendosi Grazie a tutti. Grazie a tutti.